Gentili telespettatori, buona giornata. Parliamo del caos nel Movimento 5 Stelle. Ormai non hanno più paura di perdere il posto di lavoro, o perlomeno lo perderanno alla fine della legislatura, ma adesso il loro no, il loro magari uscito dal Movimento 5 Stelle, scissione, no alla fiducia, non comporta più una eventuale caduta del governo, perché la maggioranza di Mario Draghi è molto ampia. Quindi i 5 Stelle sono diventati assolutamente ininfluenti come Italia. Viva! Adesso, visto che c'è questo nuovo fatto, che possono far tutto il baccano che vogliono, ma non perdono il lavoro perché il governo non cade, vogliono votare di nuovo sulla loro piattaforma rosso, sul governo Draghi. Dopo aver letto la lista dei ministri, le deleghe dei ministeri, i consiglieri 5 Stelle e Lombardi si ritengono beffati dalla prima formulazione del quesito sul governo e chiedono di rivotare. E ci sono centinaia di voti di sostegno, perché già si erano lamentati che il quesito era tendenzioso, era fatto in modo da far votare sì. Quindi una pagliacciata, diciamo, una buffonata. Proprio così lo hanno definito alcuni senatori 5 Stelle che stanno per arrivare al 500 firme per avere una riedizione della votazione. Quindi sono rimasti scontenti dal governo, hanno capito che non contano più nulla. E quindi non hanno avuto assegnato il Ministero della Transizione Ecologica, che non si è fuso con il Mise. Quindi in realtà, dicono, il quesito con quella domanda, in realtà quel ministero non è arrivato. È arrivato una imitazione, ma c'era praticamente già. Ecco, il sì è stato il 59,3% che il capo politico 5 Stelle, Rocco Crimi, detto vitto dagli amici, aveva definito vincolante per i parlamentari. Vincolante cosa vuol dire? Che, visto che la piattaforma dice sì, i parlamentari dovranno dire sì per forza alla fiducia, se no sono problemi, sono espulsioni, sono sanzioni, sono ammonimenti, vengono messi da parte, gli viene fatto un mobbing politico. Insomma, i metodi dei 5 Stelle, no? Dopo la lettura così della lista dei ministri, già Alessandro Di Battista aveva agitato le acque dicendo io me ne vado, così non ci sto. Si sono diffusi dei messaggi di vera e propria rabbia. Siamo stati asfaltati da Forza Italia e dalla Lega. Ecco, così prima del giuramento di questa mattina dei ministri, i consiglieri comunali lombardi del Movimento hanno lanciato una petizione per chiedere che si possa votare di nuovo sulla piattaforma per la fiducia al governo. Scrivendo così, gentilissimo garante del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Piero Grillo, inizia la petizione e chiamano il fondatore con il suo nome e cognome esteso, quasi un distanziamento rispetto al più familiare, Beppe. Alla luce della compagine di governo indicata dal presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, che si è espresso pubblicamente ieri per la prima volta dopo le consultazioni, siamo a chiedere di mettere ai voti sulla piattaforma Rousseau la scelta di dare la fiducia a questo governo, affinché vi sia il pieno consenso o meno da parte degli iscritti. Reputiamo infatti che solo ora, messi a conoscenza di tali informazioni, sia possibile esprimere un voto pienamente consapevole. La petizione si conclude chiedendo un celere riscontro pubblico a Grillo. In due ore, a sostenerla, sono state già 400 persone. Il numero continua a crescere. Vediamo che sono arrivate poi a 425, ma sicuramente adesso avranno anche superato le 500 persone, perché le mie indicazioni sono già di diverse ore fa. La petizione si conclude dicendo appunto il riscontro pubblico. A chiedere il nuovo voto è la senatrice Barbara Lezzi, quella del 370 gradi, quella del accendere i condizionatori fa crescere il PIL, giusto per capire di chi stiamo parlando. Barbara Lezzi dice «Questa mattina ho inviato insieme ad alcuni colleghi una mail al capo politico, al comitato di garanzia e al garante, per segnalare che la previsione del quesito posta nella consultazione scorsa non ha trovato riscontro nella formazione del nuovo governo». Ha scritto su Facebook «Non c'è il superministero che avrebbe dovuto prevedere la fusione tra il Mise e il Ministero dell'Ambiente, oggetto del quesito. Chiediamo che venga immediatamente indetta una nuova consultazione, è evidente che in assenza di riscontro, al fine di rispettare la maggioranza degli iscritti, il voto alla fiducia deve essere no». Quindi un secondo voto su Rousseau, secondo lo statuto del partito, si può tenere cinque giorni dopo il voto precedente. Una seconda consultazione rappresenterebbe però per il movimento che esprime quattro ministri un passaggio drammatico. Perché? Allora, se passa il no, se i 5 Stelle adesso dicono no, come è ampiamente prevedibile, io mi sono già stupito di quel 59% di sì, certo Grillo ci ha messo la faccia, si è esposto, ha continuato ad insistere con Draghi, e uno di noi ci ha dato il Ministero che abbiamo chiesto, ma il Ministero realmente non è la fusione del Mise più l'altro. il Mise è rimasto a parte, anzi è stato assegnato alla Lega. E quindi i 5 Stelle non hanno realmente ottenuto quello che sbandierava Grillo, perché Grillo sbandierava questo Ministero dicendo «Draghi, capite che è uno di noi, io pensavo fosse un banchiere di Dio, invece è uno di noi». Che cosa succede? Che se la petizione adesso, la votazione, risultasse un no, e i parlamentari, Grimi a questo punto dovrebbe dire ai parlamentari, si deve votare no, è un ordine, no? Perché come dicono adesso bisogna votare sì, è un ordine, se la piattaforma dice no diventa un ordine votare no. Votare no vuol dire non dare la fiducia a Draghi, e vuol dire che i quattro ministri devono essere ritirati, si devono dimettere perché il Movimento 5 Stelle passerebbe all'opposizione. Non cadrebbe il governo perché avrebbero lo stesso i numeri. Naturalmente se la Lega a quel punto uscisse dal governo, a quel punto il governo non avrebbe più i numeri e cadrebbe, si andrebbe alle elezioni, si andrebbe alle elezioni. Quindi capite che l'uscita dei 5 Stelle non lascerebbe completamente tranquillo Draghi, perché potrebbe comportare un'improvvisa uscita dalla Lega per portare al voto, magari con una scusa dicendo ci siamo sbagliati, abbiamo capito qui, abbiamo capito là, e si finirebbe al voto perché la maggioranza con Berlusconi non sarebbe così ampia da poter portare avanti un governo, non avrebbero poi i numeri al Senato. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, non comporta nient'altro che un aiuto al canale ad essere più visibile, e siamo anche, dicevo, in Facebook e nell'altro canale di YouTube, Tele Italia Seconda Rete. Se volete tra circa una ventina di minuti ci sarà un altro video disponibile. Grazie e buon proseguimento di giornata. Grazie. Grazie. Grazie.